benvenuti a tutti voi a un nuovo appuntamento con il nostro legal corner in questa puntata parleremo di salario minimo è un tema sicuramente molto caldo e soprattutto dibattuto sia a livello politico sia a livello economico anche perché l'italia dobbiamo dirlo a un triste primato intanto abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'europa e poi i stipendi che sono fermi da un bel po ma noi diamo subito la parola al nostro esperto l'avvocato luca failla studio legale failla and partners ben trovato avvocato ben trovati a voi ascoltatori telespettatori allora tema effettivamente del salario minimo è un tema molto caldo molto caldo è tornato alla ribalta per una serie di iniziative c'è una direttiva europea sul salario minimo che dovrà essere approvata in italia l'anno prossimo c'è un progetto di legge su presentato dalle opposizioni che ad oggetto la fissazione per legge di un salario minimo come esiste in molti paesi europei e come non esiste in italia perché come tutti sappiamo il salario in italia non è fissato per legge con un minimo inderogabile ma è fissato dalla contrattazione collettiva quindi dei contratti collettivi di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali il tema è tornato d'attualità in maniera come dire forte perché a settembre abbiamo avuto una tornata giurisprudenziale importante ci sono state sei sentenze della corte di cassazione discusse a metà settembre poi pubblicati i primi giorni di ottobre che hanno tutte sostanzialmente inciso in maniera significativa sul tema del salario minimo la questione alla base delle pronunze della cassazione era una questione che ormai è dibattuta in diversi tribunali in particolare quello di milano ma non solo da diversi anni e riguardava in particolare un contratto collettivo che era quello dei servizi di vigilanza di guardiania per intenderci sono le persone che ci accolgono normalmente nei building o fanno i servizi di reception e di controllo accesso alle persone che accedono alle aziende ai palazzi e quant'altro e la questione era sorta proprio su il trattamento economico fissato da quei contratti collettivi da quel contratto collettivo e la corte di cassazione confermando sostanzialmente le pronunze dei giudici di merito ha disapplicato quel contratto cioè sostanzialmente entrata nel merito e affermato in maniera molto chiara in maniera molto precisa più di quanto non fosse avvenuto in passato che il salario minimo fissato da quei contratti collettivi non era adeguato al principio di proporzionalità e di sufficienza fissato dall'articolo 36 della costituzione ricordo che l'articolo 36 della costituzione è la norma cardine del nostro del nostro sistema in tema di salario e dice che il lavoratore ha diritto ad un salario proporzionato alla qualità e la quantità del lavoro e fin qua evidentemente sta affermando un principio di corrispondenza tra la prestazione offerta e il salario pagato ma soprattutto aggiunge ed è un principio fondamentale che è stato quello applicato dai giudici del lavoro sulla vicenda che ci occupa dice in ogni caso in ogni caso questo salario deve essere sufficiente a garantire al lavoratore e propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa cioè al di là come dire della corrispondenza e quindi dell'adeguatezza e quindi dell'accordo tra l'azienda e il lavoratore circa salario da avversare per la prestazione lavorativa quel salario non deve essere sotto non deve essere al di sotto di una soglia di sufficienza e i giudici della corte di cassazione hanno individuato così come i giudici di merito prima di loro hanno individuato nella una serie di parametri nel caso specifico quel salario minimo era al di sotto nel netto di 600 di 700 800 euro al mese era circa 600 euro al mese e i giudici hanno detto questo salario non è sufficiente non è sufficiente quindi i giudici hanno come dire applicato un salario simile quello più vicino previsto dai contratti collettivi per mansioni come dire similare questo è un principio fondamentale un principio fondamentale che per la prima volta i giudici del lavoro in maniera stentoria disapplicano il contratto collettivo peraltro non un contratto pirata ma un contratto firmato da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative quindi assolutamente le organizzazioni sindacali del settore ma nello stesso tempo dice una cosa che il giudice del lavoro può sindacare anche il contratto collettivo il salario previsto dal contratto collettivo facendo un'applicazione coerente con l'articolo 36 della costituzione quali possono essere le conseguenze quindi mi arrivi mi avvio alla conclusione potremmo dire che questa pronuncia non tocca i settori diciamo così a consolidati della contrattazione collettiva metalmeccanico il commercio il turismo perché questo era un contratto collettivo che riguardava i settori della vigilanza quindi un settore tutto sommato di nicchia e quindi gli altri settori possono ritenersi al riparo io non lo so se sarà così o no perché il tema del lavoro povero è un tema assolutamente dinamico non è un tema che possiamo risolvere una volta per tutte non l'abbiamo risolto e il tema del salario di sufficienza è un tema legato anche alle condizioni di mercato al costo della vita all'istat tant'è vero che i giudici sono rifatti alla come dire all'istat al valore istat del salario dell'indice di povertà che non deve essere che non deve essere come dire toccato quindi io credo che sia un tema che possa portare a ulteriori sorprese l'altro tema pressione generale è che un contratto collettivo è povero perché deve a volte rimanere nel mercato e quindi fissa dei salari minimi al di sotto di quella che viene definita la soglia di povertà perché le condizioni di mercato non consentono all'organizzazione sindacaria dei lavoratori e all'organizzazione sindacaria dei datori di lavoro di fissare delle tariffe più alte e ovviamente quando ci riferiamo alla vigilanza sappiamo perfettamente la catena degli appalti quindi l'esternalizzazione quindi credo che sia un tema di mercato che debba essere risolto non solo invitando l'organizzazione sindacali a come dire a fissare dei minimi trattamento e l'organizzazione dei datori di lavoro a fissare dei minimi trattamento più alti ma a consentire che tutta la catena della filiera dell'esternalizzazione dia la possibilità quindi valorizzando anche l'appalto e valorizzando questi servizi di poter pagare di più i lavoratori se l'organizzazione sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori non riescono a pagare di più quei lavoratori c'è un problema monte non tanto di cattiva volontà di quei soggetti ma quanto delle condizioni di mercato che devono essere come dire riviste proprio alla base grazie